Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Il nostro grandissimo amico Ryuzenka, al solito che non si smentisce mai, ci ha fatto un regalo che ci è arrivato con Amazon Prime stamattina. Ora, io dico stamattina perché viene scontato da dirlo, non so quando caricherò questo video, spero nel meno tempo possibile, anche perché ce n'ho un pochino di roba, insomma, ancora da recensire e tutto quanto, comunque lo farò uscire quanto prima. C'è arrivato questo pacco, anzi due pacchetti, in uno c'erano queste caramelle, con reggime amore, caramelle inglese, qualcosa del genere, dolciumi, che il video è tutto dedicato su questo, e poi ci ha mandato Sanctum, che quando l'ha aperto ci sono rimasto da paura perché effettivamente nell'ultima, una delle ultime domeniche ludiche, sempre perché non so dove lo andrò a collocare in sto video, nemmeno aveva parlato di Ryull, hai visto di quel gioco che ricorda Diablo, non è il gioco ufficiale di Diablo, però vedete anche se questo non è Diablo, e poi all'interno le classiche ci sono dei personaggi, c'è il guerriero, l'arciere, il mago, insomma, le classiche classi di Diablo, appunto, soprattutto del primo Diablo, e sarà motivo di un prossimo video, perché vi ci voglio fare proprio un cosa ne penso, spiegarvi le regole e tutto quanto, in un gioco che, se non erro, a breve dovrebbe essere comunque, entro la fine del 2020, portato in Italia dalla Cranio Creations, in edizione completamente localizzata, ma vi faccio vedere un po' cosa c'è qui dentro, a breve, dopo la sigla. Questo, ragazzi, preciso subito, è un video tipico, perché, sì, se ci mandate qualcosa a casa, se ci viene fatto un regalo, lo mostreremo sempre, è anche qualcosa che non c'entra col canale, ma non è che sul canale vogliamo portare dolciumi e cose varie, questo, per quanto, magari, potrebbe essere qualcosa di collegato anche al mondo nerd, perché ho visto, hanno fatto il libro delle ricette, ad esempio, di Game of Thrones, del Trono di Spade, non ci interessa, ecco, portare questo tipo di contenuto. Tra l'altro, la scatolina è molto bellina, in cartoncino, con la bandiera inglese, e apriamo, perché vi faccio vedere. È il mondo dei sogni, è, boh, praticamente, è la fine dei denti, questo qui è il paradiso, o volendo, anche l'inferno, appunto, della carie. Intanto c'è un bigliettino dentro, che penso sia il nome del negozio, insomma, da cui l'ha acquistati, e l'ha impacchettato Joe. Così, nel caso, se troviamo qualcosa che non va, contattiamo Joe, direttamente. Allora, dentro c'è uno snap, io penso che siano chewing gum, qualcosa crackle, forse quelle che ti scoppiettano sulla lingua, qualcosa del genere. È già mia moglie che si inizia a leccare baffi. Poi abbiamo queste palline celesti, cingommose, che, secondo me, è la droga di Heisenberg, sono i cristalli di metanfetamina. Questa qui è la met. Poi, questi tubettini qui, io ora vi metto un'immagine qui accanto, l'ho visti nel film Interstate 60, come si chiamava. Insomma, quello che quando vanno nel mondo, nella città, dove c'è Kurt Rasser, che fa tipo il capo della polizia, lo sceriffo, o qualcosa del genere, è tipo quella droga che andavano ad aprire per darle ai ragazzi e per farli stare buoni, perché li tenevano buoni con la droga. Un po' come nel gioco We Happy Few, per farvi un esempio. E penso che tutti quanti queste cose qui siano da aprire e da buttarsi sulla lingua. Tanto ora, a fine video, le andiamo a provare tutti. Poi, ci sono ancora caramelle, scusate, cingomme, di quelle belle dure all'americana, che già sento messo dure, vi mi ci parto in dente. Le cole, quelle che butti sulla lingua e ti fanno tutti i bum bum, gli scoppietti. Vabbè, Chupa Chups, bellini, all'americana, più caramelle dure che io queste qui, le devo sciucciare fino in fondo, perché se ci do un morso, ora come ora, mi ci rimane attaccato un dente. E questo qui, Fizzis, Fizzirs, anzi, penso che siano qualcosa tipo a vedere così, sembrano quasi caramelle, anche perché è abbastanza duro. Poi abbiamo le classiche, le caramelline tipo le fruitella, sempre queste qui, quest'arte al limone. Insomma, è veramente, questo qui cos'è? Quella fischietto. Questo mori cos'è? Quella fischietto Whistle? Sì, basta che finisci qua, presumo, e poi... Eh, io penso, ma questo l'ho visto anche in Italia, eh. Almeno i miei genitori, quando avevano l'alimentare che ero piccino, ce l'avevano questa roba. Io penso che tu debba mangiare tutta la parte qui davanti e poi dopo diventa un fischietto. E poi c'è, proviamo qualcosina, vai. Che gustiamo? Gustiamo qualcosa, te che te mangi? Te che te mangio? Ti passo il conto del mio dentista. Allora, io provo questa qui verde, che mi ricorda appunto il film Interstate. Ma è sicuro? No, questo è verde. E cos'è? Cos'è? Vedi chiaro? No, è giallo, è giallo. Sto diventando daltonico, si vede che lei dipinge. Allora, e te ti provi quella lì. Apriamo. Ah, io c'ho quella... Lei c'ha quella rosa. Io c'ho questa verde. Proviamo. Stai a vedere tanto nel caso ci si la meta con Joe. La mia è, vabbè, è classico. La mia è al limone. La mia è tipo... Buona. Tipo fragola. Fragola. No, si vede, è rosa. No, la mia invece è al limone. Fa... Fa strano. Non è che... Aspero, però ti viene un po', è vero l'effetto. Quando prima ovviamente te la butti sulla lingua. Insomma, buona da morì. Se riesco a tirarla fuori, perché una parte si è fermata qui in fondo, a parte qua si è finita il tuo vicino. Insomma, è veramente molto buono. E poi, ragazzi, abbiamo veramente da spaccarci completamente tutti i denti. E ora ce l'andiamo a pappà tutta. Ragazzi, detto proprio sinceramente, volevo fare il video quanto prima, ma anche perché l'ultima volta che ci ha regalato qualcosa a Ryu, e me ne scuso direttamente nel video, abbiamo fatto passare circa un mesetto, una ventina di giorni prima di farci fare il video, ragazzi, perché siamo pieni. Io attualmente, quando ora in questo momento sto facendo questo video, da fare ancora tipo 10-11 recensioni. Quindi è normale che devi trovare il tempo a dedicare a tutti. Comunque, ci abbiamo fatto questo video qui. Sanctum, ve lo faccio vedere perché lo voglio leggere a modo successivamente, ma prima di tutto perché non vediamo l'ora di mangiarci tutto quello che c'è qui dentro. E tante cose che sono qui e che avete visto, mai le avevo viste in vita mia perché comunque sono dolcetti, caramelle, cose inglesi. Ora, a parte... Ora, a 30 anni, insomma, quando fanno le settimane particolari alla Lidl, magari c'è il mese americano, il mese francese, ce le potete anche trovare. Però sono prodotti che quando ero piccino io e non esisteva ancora la catena Lidl, non li trovavi assolutamente, almeno che tu non andassi tipo al Camp Derby, in base americana e cose del genere, ma nemmeno. E poi, scommetto che, gliel'ho detto, ma anzi trovando manco la Lidl. Quindi, Ryu, grazie davvero di cuore, grazie immensamente, siamo come sempre onorati, veramente. Poi, se è un matto, ogni volta ci mandi sempre qualcosa, in più ho imparato che, sapendo che ci piacciono i giochi da tavolo, ci manda sempre un board game e qualcosa da mangiare. L'ultima volta ci ha mandato una specie di mazzo di fiori, tutto quanto pieno di chupa-chups. Ci siamo rovinati i denti, grazie per le cariche che ci ha fatto venire e per gli zuccheri nei denti che fanno un bene assoluto, e tutti lo sappiamo. grazie di cuore, Ryu, veramente. Grazie immensamente. Ragazzi, questo è quanto. Chiudiamo il video, anche perché qui si inizia a fare un caldo della madonna e ce l'andiamo a mangiare io e mia moglie. Ciao ragazzi, alla prossima.